Gassi a tutti ragazzi, oggi siamo a Misanino, si corre! Subito pronti via, si parte, qualifiche, gara 1 e gara 2 in questo mini GP che vedrà affronteggiarsi gli amici della gang, 9, 9 mi hanno detto, numero 9, ci siamo, numero 46 per Mr Feb, grossa responsabilità, madonna santa, ragazzi non potete capire, è stra-reattivo, dietro Cesco, non so mica se sto facendo bene o male, ok dietro Cesco, dietro Cesco, Cesco ne ha, Cesco ne ha! Primo! Giro di qualifica più veloce! Ok, partiamo a quarti Dai 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 Subito dentro, prova! Ci siamo infilati Ci siamo infilati Ci siamo infilati Non va? Non so... come... come sono messi... forse ho preso... Un po' di margine... non tutti dietro... mannaggia! Dai 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 la bs speriamo stia bene cazzo alto sorpasso perfetto di mister falbo si cazzo ti ero dietro ti ero dietro dietro l'avete filmato? puttana ti ha tirato una botta vecchio mi ha fatto freddo un colpo ho avuto lui tagliare così mi ha spruzzato tanto ti è andato di peso ma dopo lo vedrai dal video è assurdo non mi sono fatto granché un po' la tuta adesso faccio vedere il casco però adesso se mi fanno andare vado a fare il secondo turno vabbè raga il secondo turno ve lo vlog a Feb io proverò io niente adattatore del microfono andrà comprato nuovo quindi boh metto via la gopro però torno dentro sto bene sto bene tranquilli ok ragazzi turno 2 abbiamo vinto la prima quindi si parte dalla pole mi sa non so se è una cosa che mi piace o no perché avere un riferimento potrebbe essere utile se esco all'interno ma noi ci siamo sempre adesso si giù 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 siamo tutti qui no caro no alto cazzo mi chiedi in bocca su dritto se ne va qui me la vicino perché sono più bravo alto ci vanno fatto sul podio e niente oggi tocca a me fare da cameraman quindi la premiazione ecco a voi il terzo classificato buccioli eric seconda che vengo un po' più vicino secondo classificato francesco trombin è proprio di noi secondo sono io ah scusa 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 quello scarso di 48 cavalli e al primo posto francesco trombin su mante anzi champagne è strano più che altro dovrebbe scocciare arrivare al secondo invece in questo caso contento e non poco soprattutto la mia vecchia tutta quella separata vecchia con le saponette rosse me l'ha sverginata a quest'uomo qui bene raga facciamo volare il drone non so se si vede e niente sto bene un po' acciaccato ma sto bene quindi facciamo l'outro adesso vi salutiamo un saluto ci vediamo al prossimo video ciao